Allora, il punto è questo, mi sono accorto di ricordarmi di un videogioco che internet non conosce, il che mi lascia un po' spaesato e mi lascia una sorta di senso di solitudine, perché è bello quando ti ricordi di qualcosa andare su Wikipedia e trovare delle informazioni in merito e dire ah, qualcun altro si è ricordato di questa cosa. No, in questo caso nessuno, è pieno di insetti questo posto, nessuno sembra ricordarsi dell'esistenza di questo videogioco, e sto parlando di un videogioco che si chiama Josephine, Portrait of an Assassin. E mi ricordo di questo videogioco perché il titolo mi aveva colpito quando ero ragazzino e non essendo cine internet io leggevo e rileggevo e rileggevo ancora mentre andavo a scuola in macchina i pochi magazine che avevo e leggevo PC Gamer quando ero piccolo, tra i tanti. E mi ricordo di aver giocato la demo di questo videogioco, di aver giocato il videogioco, anche se in modo molto a caso perché ero piccolo, e questo videogioco era una grande porcata, era proprio una schifezza, però aveva dei livelli di trash che secondo me sarebbero apprezzabili, tipo delle sorte di scene con, non lo so, delle riprese orrende, tipo con gli attori, ora non vorrei ricordarmi male, comunque mi ricordo di un'auto. Su internet non c'è niente, non si trovano dei gameplay, si trovano pochissimi screenshot del gioco, ho trovato le foto di qualche scatola e non capisco perché internet si è dimenticato di questa perla del trash, quindi, per i pochissimi interessati, aiutatemi a fare una ricerca su questa roba. Credo che il gioco si possa emulare in qualche modo, se è possibile trovarlo, magari durante questa settimana, se trovo un minuto, provo anche io a fare sta roba, ma se voi ci riuscite prima di me, provate questo videogioco, non so, fateci dei gameplay, l'importante è che me lo fate sapere, vi fate delle foto, mandate la roba, proviamo. Lancio la palla anche, non lo so, ai colleghi youtuber che magari sono più esperti di me nel mondo del gaming, eccetera. Josephine, Portrait of an Assassin. Grande porcata, ma è il caso di riesumarla.